Ma è vero, se la donna è vero, da vero tutti quanti spedizzi, ti immagini, quante famiglie sull'astico, a propria crisi del dollaro, questa c'è che sarebbe la crisi del secolo. Ti immagini, se fossi sempre domenica, tu fossi sempre libera, e se parlare fosse vero e prodica. Anche, non stiamo già tutti d'accordo con te, che c'è qualcosa che, che, qualcosa che non va, lo so, però, secondo te, qui c'è qualcuno che ha sbagliato il mistero. Non voglio mica rire, se è una bella, no, perché, però, se qualcosa non va, lo so, fantasie, fantasie che vorranno di me, fantasie che a volte fa rire, fantasie che a volte fa morire. Ti immagini, la fregatura che ha preso, quelli che sono partiti, tutti, forse tutti quanti spedizzi.